Musica Discussione accesa a Chiavari sul tema del depuratore unico nella zona della Colmata attesa per conoscere la posizione della regione sulla decisione presa dal lato Furti a ripetizione nel camping dei fieschi di Cogorno ripartita con fatica dopo l'alluvione del 2014 la titolare denuncia una situazione sempre più difficile Ventesima edizione da record per il Salone degli Orientamenti a Genova 48.000 visitatori e 3.000 posti di lavoro per i giovani 8 per mille interviene il presidente della CEI sotto gli occhi di tutti come viene amministrato per il Cardinale Bagnasco in atto un tentativo di screditare le opere di carità della Chiesa italiana Testimonianze di vita consacrata A Rapallo 5 somaschi vivono e trasmettono la paternità insegnata dal loro fondatore San Gironamo Emiliani Buongiorno ai telespettatori dell'ETC13 ben trovati al nostro appuntamento con l'informazione i temi della politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale ha sicuramente acceso gli animi il dibattito intorno al depuratore unico svoltosi ieri sera a Chiavari trasmesso in diretta da Telepace che verrà riproposto anche domenica prossima alle 20.30 su Telepace 3 al canale 115 dopo la presentazione tecnica dei dati che hanno portato la città metropolitana a scegliere questo tipo di impianto sono state molte le voci critiche che hanno provato a mettere in discussione la decisione la palla comunque adesso è nelle mani della Regione Liguria che a breve dovrà decidere se confermarla o metterla in discussione sentiamo quasi tre ore e mezza di discussione al termine della quale le parti sono rimaste sostanzialmente sulle proprie posizioni per una decisione già presa dai sindaci del lato e che attende ora la ratifica o la bocciatura da parte della Regione Liguria non poteva che essere così per l'incontro pubblico svoltosi all'auditorium San Francesco di Chiavari durante il quale la città metropolitana di Genova ha provato a spiegare le ragioni e il percorso che stanno alla base della scelta dell'impianto unico nella zona della colmata a mare di Chiavari una decisione corroborata dalla relazione tecnica di un esperto l'ingegnere Alessandro Girelli della ditta Industria e Ambiente che ha mostrato le tabelle con tanto di cifre e parametri che avvalorano quella dell'impianto unico come la strada meno costosa ma decisione messa in discussione politicamente e tecnicamente prima dalla protesta dei cittadini e poi dalle molte persone che hanno preso la parola nel corso del successivo e interminabile dibattito a cosa sia servito tutto questo prova a spiegarlo lo stesso consigliere delegato all'ambiente promotore dell'iniziativa ci sarebbe voluto più tempo però io qua ricordo che io avevo a disposizione il 30 settembre il 30 settembre era l'ultima data possibile per decidere un'area per l'impianto comprensoriale del Tiguglio se no si andava in infrazione europea l'infrazione europea prevede che questa infrazione la paghino tutti i cittadini della città metropolitana è stato stabilito quanto varia sulla bolletta poi di chi andrà a pagare il costo di un impianto rispetto ad un altro di che cifre stiamo parlando, di differenza? Allora, le differenze nelle varie simulazioni hanno una differenza di 6-7 milioni uno dall'altro cioè quello di un impianto unico comprensoriale costerebbe meno di questa entità rispetto a due impianti uno di Vallata cioè quello dell'impianto per la Val Petronia e quello per la Intella In mezzo a questo passaggio c'è comunque la Regione che dovrà deliberare? La Regione deve fare una propria valutazione noi come compito avremmo quello di nei tempi appunto di prendere una decisione questa decisione sarà valutata dalla Regione Nel corso del nostro percorso di avvicinamento al 10 di novembre, anniversario dell'alluvione che ha colpito il Tiguglio quest'oggi ritorniamo a Cogorno per parlare della situazione del camping dei Fieschi con enormi sacrifici e l'aiuto di molti l'area finita sotto un metro d'acqua è stata ripristinata una sessantina delle roulotte che sono state sistemate nel camping che però ora deve fare i conti con una serie di furti a ripetizione Noi siamo ripartiti con tanto orgoglio e siamo qua speriamo che ci lasciano un po' in pace che ci diano qualcosa anche per sopravvivere altrimenti non si sopravvive più Quanti anni ha signora? Io ce ne ho 82 a febbraio 83 quindi E da sola comunque a gestire tutto questo? Da sola perché sono vedova sono 28 anni che sono qua ci ha dato l'anima ci sto dando la vecchiaia le regalo tutto allo Stato stando qua tutto ci sto regalando dalla pensione a tutti i sacrifici e che cosa ancora devo dare? Ricordiamo un anno fa qua cosa c'era? Qua c'era due metri d'acqua il mezzo metro di fango ha lasciato abbiamo speso fatto di tutto di tutto con tanta volontà di ripartire purtroppo mi angoscia questa cosa qua dei ladri Che cosa stanno portando via? Tutto quello che trovano nelle roulotte spaccano tutte le finestre spaccano porte ci dormono dentro ci mangiano fanno di tutto ogni giorno devo fare 60 roulotte a vedere le finestre se sono in ordine Finora cosa hanno portato via? Tutte le televisioni tutto anche vestiti mangiare di tutto tutta roba che la gente ha comprato nuova a ottobre dopo l'alluvione e siamo in questi punti qua Chiedo una mano comunque per questo ci vorrebbe qualcuno che controllasse qui? No io ho detto anche i carabinieri le offro anche il tè se vengono a fare un giro e anche ai vigili del comune fate un giro ogni tanto ma non si vede mai nessuno siamo abbandonati a noi stessi basta La cronaca la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure sta monitorando gli scarichi autorizzati in mare da parte delle imbarcazioni e le eventuali emissioni abusive pur essendo stato riscontrato qualche elemento critico complessivamente i risultati delle analisi non hanno evidenziato particolari problemi in caso di emergenza comunque le unità mobili della Guardia Costiera possono essere prontamente dislocate in mare per l'accertamento di potenziali violazioni che possono causare danni o pericoli per l'ambiente marino e costiero Moltiamo pagina adesso il Salone degli Orientamenti che si è chiuso ieri alla Fiera del Mare di Genova giunto alla ventesima edizione ha fatto registrare 48 mila visitatori con un aumento del 20% in più rispetto all'edizione del 2014 si tratta del miglior risultato di sempre nel dettaglio agli stand allestiti nel padiglione B ci sono stati 36 mila studenti 8 mila genitori 4 mila docenti ed educatori presenti tra le novità dell'anno ci sono stati gli incontri con i testimonial provenienti da diversi settori dell'impresa ci sono stati inoltre 17 mila 821 colloqui per quasi 3 mila posti di lavoro per i giovani per la prima volta sono state premiate dall'assessore alla formazione e alle politiche giovanili della regione Ilaria Capo le aziende che hanno fatto alternanza scuola-lavoro per le imprese d'eccellenza e riconoscimenti sono andati alla veleria San Giorgio di Casarza Ligure al gruppo Duferco società di ingegneria ed energia e all'impresa artigiana di tessuti e abbigliamento Liapul il gruppo di minoranza territorio e sviluppo ha presentato due interpellanze per il prossimo consiglio comunale la prima concerne un fenomeno di erosione spondale del torrente lavagna che interessa la piana di Fornace di Scaruglia le ultime alluvioni infatti hanno divelto la scogliera nella sponda destra realizzata una quindicina di anni fa dalla comunità montana Fontana Buona l'altra interpellanza riguarda il nuovo sistema di allerta regionale i consiglieri comunali Claudio Solari Mirco Aste e Sergio Vaccaro chiedono al sindaco di attivarsi nel revisionare immediatamente il piano di protezione civile facendo anche incontri informativi nelle scuole nelle aziende e tra la popolazione specie per coloro che si trovano in zone esondabili dai corsi d'acqua dispiace e forse in questo c'è una certa intenzione da parte di qualcuno il tentativo di creare e aumentare un polverone in modo da far credere alla gente in modo così indiscriminato che vi sia una gestione non corretta dell'otto per mille che fino ad ora gli italiani con tanta generosità e coscienza hanno accreditato alla CEI che non è il Vaticano così il cardinale Angelo Bagnasco presidente della CEI e arcivescovo di Genova parlando del recente pronunciamento della Corte dei Conti in merito alla gestione dei fondi per l'otto per mille il porporato ne ha parlato a margine di un convegno all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ascoltiamo la sua dichiarazione non c'è nulla di nuovo rispetto al primo al primo testo anzi direi che è molto più rispetto alla parte della Chiesa direi molto più leggero diciamo pure così quello che invece dispiace e forse questa una certa intenzione da parte di qualcuno è quello di creare aumentare un polverone in modo da far credere alla gente in modo così indiscriminato che vi sia una gestione non corretta dell'otto per mille che finora gli italiani con tanta generosità e coscienza ha accreditato alla Chiesa Cattolica la CEI che non è il Vaticano la CEI anche perché in fondo come viene amministrato questo otto per mille dalle dioci dalle comunità parocchiali delle associazioni dai centri di ascolto per i poveri i nostri italiani gli immigrati in tutte le forme di povertà vecchia e nuova questo è sotto gli occhi di tutti nell'anno della vita consacrata continuiamo a scoprire l'impegno degli istituti religiosi nella nostra diocesi questa settimana andiamo a Rapallo dove i padri somaschi portano avanti varie attività trasmettendo così il senso di paternità ereditato dal loro fondatore San Geronimo Emiliani i suoi maschi sono cinque il superiore da sei anni e padre Francesco Murcia sentiamo dove è nata la sua vocazione? io sono originario della provincia di Cagliari e da adolescente facevo parte insieme a tanti altri amici di un gruppo parrocchiale molto impegnato sia nella vita spirituale ma come anche nell'impegno per gli altri ed è stato anche naturale quasi spontaneo chiedersi ecco cosa voglio fare della mia vita e quindi decidere ecco io voglio donarmi a Dio per donarmi agli altri San Geronimo Emiliani ha lasciato il carisma della paternità ma questo che cosa significa in concreto? beh per San Geronimo significava prendersi cura dei piccoli degli orfani una paternità che oggi intendiamo in senso molto più più ampio come un trasmettere agli altri l'amore paterno di Dio che diventa accoglienza che diventa misericordia che diventa sostegno accompagnamento a Rapallo si deve occupare di tante cose in questo periodo si la nostra casa anche tanto grande è diventata anche un incubatore di diverse attività oltre alle due comunità per minori che ospitiamo complessivamente sono 20-24 ragazzi che ospitiamo c'è anche un centro diurno dove si fa il dopo scuola attività aggregative e poi ci sono diverse iniziative che fanno un po' capo alla nostra struttura portate avanti anche tramite altre associazioni di volontariato e poi svolgiamo anche attività di accoglienza e ospitalità turistica secondo i canoni del turismo religioso e sociale la giornata di telepace diocesana si svolgerà domenica 8 novembre le forme e i modi per sostenere l'emittente possono essere svariati la preghiera il volontariato la solidarietà in particolare tutte le comunità parrocchiali sono invitate a pregare per l'emittente della diocesi di Chiavari che non ha pubblicità e vive grazie alla providenza e alla carità nelle chiese sarà distribuito il dépliant con la programmazione della nuova stagione radio televisiva domani trasmetteremo invece le parole del vescovo Monsignor Alberto Tanasini in merito proprio al servizio dell'emittente diocesana due appuntamenti prima della rassegna stampa incontro del ciclo curare madre terra sull'enciclica laudato sì di Papa Francesco a cura delle parrocchie di Santa Margherita Ligoro notizia questa che troviamo anche sul nostro sito internet teleradiopace.com questa sera a partire dalle 21 nell'auditorio un Santa Margherita in via della Vittoria fra Luca Pozzi dei frati minori di Varazze parlerà su una nuova alleanza tra umanità e ambiente come di consueto dopo la relazione di Fra Luca sarà possibile per chi lo desidera intervenire per domande di approfondimento un altro appuntamento che troviamo anche sul nostro sito per questa sera musica e danza irlandese come riabilitazione nella malattia alle 21 nel salone di Villa Grimaldi a Lavagna ci sarà un concerto di musica tradizionale irlandese a Fox in Atipot iniziativa a cura dell'associazione Carol Voltila Onlus linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti Italia occasione vera il titolo di avvenire Commissione Europea e Istat alzano le stime Renzi cambiata la musica Draghi chiede un nuovo patto per l'Europa scontro sulle pensioni l'Inps insiste il governo rinvia e una lettera alla città del cardinale Vicario Vallini la chiesa offre cinque vie per far rinascere Roma la paura blocca i turisti migliaia fermi a Charm in Egitto si rafforza la tesi della bomba sul volo russo voli sospesi aumenta la vigilanza anche in Italia e Fulio Scaglione scrive un articolo di commento in Sina e giochi d'ombre e di ferocia all'interno di avvenire crescita e lavoro l'Unione Europea promuove l'Italia Commissione e Istat alzano le stime Job Act efficace confermata la linea della stabilità il premio a Renzi finita l'era dello zero virgola anche in Europa la musica sta cambiando cautela invece sul deficit le misure per l'occupazione funzionano l'esenzione fiscale per le nuove assunzioni ha sostenuto l'aumento degli occupati e dovrebbe continuare a farlo e una notizia incredibile rapporto i migranti l'apporto dei migranti spinta per l'Europa Bruxelles con una piena integrazione il PIL può salire dello zero virgola tre entro il 2017 quindi una risorsa gli extracomunitari siamo sul secolo XIX il Papa sulle case si cambia patrimonio immobiliare affitti il Vaticano subito al via la riforma mafia capitale IPM alemanno va da giudizio iniziato il processo Carminati dirà tutto e poi c'è ancora la vicenda che infiamma Rapallo il velo della discordia che infiamma Rapallo potrebbe essere stato gettato da un'apertura del rio Cereghetta all'interno del secolo nel Levante una notizia di cronaca cadaveri in mare nel largo di Portofino di un pescatore naufragato con il cugino davanti a Viareggio riconosciuto grazie ad un tatuaggio Enelio Simonetti a 48 anni era scomparso lo scorso 28 ottobre a poco miglia dal porto toscano in Versilia resta ignota la sorte del collega e parente Fabrizio assieme a lui a bordo del Giumar l'altro naufrago e i colleghi di Santa un dolore a noi noto gli armatori dei pescherecci come fosse uno dei nostri questa è una grande famiglia ancora dal secolo XIX noi liquiami di Sestri Levante la città non solo insorge contro il depuratore unico previsto sull'area di Colmata il dibattito ieri all'auditorio in San Francesco sotto accusa il sindaco Levaggi sapeva da febbraio e fuori c'è la protesta di chi prende le distanze un presidio per contestare la scelta anti-economica e anti-estetica ci sposiamo adesso in redazione per gli ultimi aggiornamenti c'è Alberto Viazzi bene grazie allora con la cronaca nel porto di Genova l'agenzia delle dogane e la guardia di finanza hanno sequestrato 170 carabine ad aria compressa e 200.000 munizioni rinvenute in un container di giocattoli proveniente dagli Emirati Arabi Uniti e diretto al porto libico di Misurata oltre alle armi è stato sequestrato anche una notevole quantitativo di giocattoli che oltre a costituire carico di copertura sono risultati anche essere contraffatti sono in corso approfondimenti per cercare di risalire agli speditori del carico e al destinatario poi a Rapallo una signora di 86 anni è stata vittima di una truffa le segnalazioni purtroppo continuano a ripetersi nonostante anche tante raccomandazioni che vengono fatte dalle forze dell'ordine in questo caso si tratta di due uomini che si sono spacciati come dipendenti della società dell'acqua potabile sono riusciti a entrare nell'abitazione di questa donna in via San Gerolamo a Rapallo e una volta all'interno con uno stratagemma sono riusciti a impossessarsi di 400 euro poi si sono dileguati ora le indagini sono in corso e ancora a Santa Margherita Ligure sul lungomare Canepa i carabinieri hanno fermato un uomo di 42 anni San Margheritese per guida senza patente intorno alle 13.30 a bordo del proprio ciclomotore non si è fermato all'alto intimato dai militari che poco dopo lo hanno rintracciato nell'abitazione il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e l'uomo è stato deferito in condizione di libertà dalla redazione è tutto e con la cronaca si conclude questa edizione dell'ETG13 l'informazione ritorna questa sera 19.15 con la prima edizione di Tiguli Oggi tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.teleradiopace.com grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornate grazie a tutti grazie a tutti